100 g di asparagi precotti 2 bustine di zafferano 50 g di formaggio 100 g di gamberetti 40 g di burro 30 g di farina 00 100 ml di latte 400 g di pasta e linguine Scaldiamo il latte E a parte lasciamo fondere il burro Saliamo E aggiungiamo la farina E prepariamo il roux mescolando Verseremo il latte caldo E lasceremo addensare Aggiungiamo lo zafferano Nel frattempo scaldiamo l'acqua Tagliamo i nostri asparagi E li lasciamo cuocere con uno spicchio d'aglio E una noce di burro E aggiungeremo i gamberetti Mettiamo del pepe Togliamo lo spicchio d'aglio A fine cottura E saliamo Scoliamo la pasta La condiamo con la salsa E impiattiamo A presto 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 A presto